bella a tutti fourniters in questo video andiamo a vedere come fare la missione usa una bolla scudo in partite diverse la bolla scudo la vedete questa che ho sezionato qua si trova in giro un po per la mappa non ci sono punti specifici quindi dovete cercarla la vedete eccola qua questa qua va usata si usa in questo modo che crea la bolla scudo intorno di voi vedete già usata in quattro partite diverse ma usata quindi durante la partita potreste trovarla usandola in quattro partite la missione sarà completata con questo il video termina qua se vi è piaciuto un bel mi piace condividetelo con i vostri amici non dimenticate di lasciare un commento ai nostri video e se vi va come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti ciao a tutti